Calano le imprese ma aumenta il fatturato. Sono i primi due fattori che balzanano l'occhio nell'analisi annuale condotta da CNA sull'andamento occupazionale dell'artigianato della piccola e media impresa in provincia di Ravenna nel 2018. Migliorano le condizioni del mercato del lavoro, cresce l'occupazione anche se comunque sotto la spinta del lavoro stagionale. Il fatturato, in positivo del 2%, consolida un andamento costante dal 2015. Eppure il 2019 presenta forte preoccupazione per l'associazione di categoria che chiede nuove politiche economiche a favore dello sviluppo dei territori e delle imprese. In estrema sintesi se vogliamo analizzare alcuni dati amministrativi ed aggregati economici possiamo dire che non va male. Abbiamo un decremento rispetto al numero delle imprese, sia imprese artigiane che imprese scritte a registro, dello 0,55%, ma a fronte di questo dato negativo abbiamo una buona performance in termini di fatturato, più 2% nel 2018, meglio di Mila Romagna 1,1 o il Bologna ad esempio 1,1 e un incremento occupazionale del 2,97%. Meno aziende, più fatturato, per andare oltre i numeri bisognerebbe cogliere poi le dinamiche dei singoli settori, abbiamo settori ancora molti lontani dal periodo pre-crisi, in termini di fatturato e anche di occupazione. Abbiamo alcune dinamiche, ad esempio penso alla meccanica, dove si riscontra una forte diminuzione delle imprese, ma una crescita, quindi una maggior strutturazione delle imprese che operano sui mercati. Si toccavano peggio, purtroppo sono ancora, anche per il 2018, le costruzioni e i trasporti in particolare, male e legno, abbastanza stabili i servizi alla persona e alla comunità. C'è un settore dove questa crisi finalmente non si sente più oppure no? Diciamo che dire che la crisi non si sente forse è un po' troppo ottimistico, va detto ad esempio che la meccanica, che ha subito una fortissima crisi nel secondo semestre del 2008, ha superato i livelli di fatturato pre-crisi già l'anno scorso e sta ulteriormente crescendo. Stabili i servizi alla persona, però diciamo che i consumi sono ancora un po' contratti. Il 2018 si è chiuso con un più 2%, però si sente la mancanza di quel 10-12% di pre-crisi. Sì, si sente ovviamente questa mancanza. Abbiamo alcuni settori che hanno comunque recuperato i livelli di pre-crisi, in particolare il settore manifatturiero, ma abbiamo settori che sono ancora molto indietro. Tra l'altro noi per rivitalizzare alcuni settori, in particolare le costruzioni, abbiamo anche, come posso dire, pensato ad alcuni progetti che sono quelli della ristrutturazione e della rigenerazione urbana che potrebbero creare, evidentemente anche ricreare importanti elementi di valore aggiunto e positivi per questo settore. Come sta andando questo 2019? Ma diciamo che il 2019 non è partito malissimo, nel senso che abbiamo comunque scongiurato in ambito nazionale il rischio di andare in recessione tecnica, nel senso che sarebbe stato il terzo trimestre consecutivo se non ci fosse stato il segno più, nel primo del 2019, consecutivo con il segno meno. Però le previsioni purtroppo non sono positive. Sono stati rivisti, direi, tutti gli indicatori al ribasso per quanto riguarda le previsioni di crescita del Paese che oggi uscillano dallo 0% allo 0,3% e quindi sarà un'annata, a nostro parere, ancora molto complicata. La mancanza di un quadro normativo stabile e ripetitivo sul quale le aziende possono in qualche maniera contare e poi le cifre ce lo confermano fortemente ostacolante dei tentativi di riprese e di investimento da parte delle imprese stesse. Che cosa chiedete alle amministrazioni invece quei locali? Noi alle amministrazioni locali chiediamo e purtroppo da tanto tempo ci rendiamo conto ormai che sta diventando anche quasi irritante la ripetitività con la quale lo facciamo, ma che chiediamo veramente di riuscire a ottenere quegli investimenti nel settore infrastrutturale e quelle, come devo dire, capacità, quel favorire un territorio nel fare sistema, nel far sì che quelle opportunità, quelle potenzialità, e sono tante che il nostro territorio ci offre, possano venire messe finalmente in condizioni di svolgere appieno la propria attività.